Una vittoria sfiorata al primo turno per una manciata di voti che però è giunta al secondo, quella del rieletto sindaco di Montalto Uffugo in provincia di Cosenza, Pietro Caracciolo. Dal lato politico significativo, visto e considerato che anche in questa occasione è stato sostenuto da una coalizione civica, un successo oltre che politico anche personale che è andato oltre ogni più rosa aspettativa. Rappresenta la volontà dei cittadini di sbarazzarsi una volta per tutte alla vecchia politica e di fare affidamento su chi come me in cinque anni ha garantito equità e trasparenza ai nostri cittadini. Credo che sia proprio veramente una liberazione quella che ho accolto soprattutto la sera quando ci sono stati festeggiamenti negli sguardi dei miei cittadini. Adesso il secondo mandato si preannuncia intenso, come ha dichiarato lo stesso sindaco rieletto, perché dovranno essere realizzate tutte quelle opere e progetti cantierati nel corso del primo mandato. Abbiamo dovuto iniziare da zero, però sicuramente uno dei punti di forza della mia amministrazione e che credo che mi ha portato al successo è il fatto di aver migliorato in tutti i servizi essenziali che a Montalto erano del tutto assenti o carenti. Quindi abbiamo lavorato molto, abbiamo lavorato molto anche su opere pubbliche, sulla programmazione e soprattutto sull'aspetto finanziario. Speriamo, abbiamo già iniziato a raccogliere i frutti di queste cose e chiaramente metteremo ulteriormente a frutto tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo in cantiere una serie in agenda, abbiamo una serie di impegni importanti, non solo sotto il profilo delle opere pubbliche, ma abbiamo degli appuntamenti importanti che riguardano per esempio quello che comporta l'atto dei rifiuti, perché tutti i comuni della provincia di Cosenza corrono un rischio veramente serio e quindi bisogna affrontarlo con molta responsabilità. Abbiamo il problema dell'autorità idrica regionale che è un altro nodo che va definito e mi onoro di essere uno dei 40 sindaci che sono stati eletti a rappresentanza di tutti i comuni della Calabria. Abbiamo la situazione del progetto finanziario che deve partire per effettuare tutte quelle opere che riguardano questo progetto, cioè collettamento dei reflui e miglioramento della funzionalità del depuratore di coda di volpe, proprio per evitare che ci siano delle problematiche di carattere ambientale. Quindi abbiamo delle cose molto importanti. Poi su Montalto nello specifico dobbiamo definire il discorso della scuola di taverna. Ci sono molte cose che bollono in pentola, che ho lasciato sospeso per questi 45 giorni, perché mi sembrava giusto lasciarle sospese in attesa dell'esito dell'elezione. Ora le cose fortunatamente sono andate bene e riprendiamo a lavorare come prima.